Cosa diamine sta succedendo? Ragazzi, con una sorpresa incredibile totale, hanno rilasciato una nuova versione, si potrebbe dire una vecchia versione, un vecchio gioco di Minecraft, Minecraft 3D. Come vedete, è qualcosa di molto antico, qualcosa che non è mai stato pubblicato, quindi è un nuovo Minecraft che però viene dal passato. Andiamo a vederlo insieme, perché ragazzi, io ho visto sta roba, sto facendo il video proprio al volo, e sono estasiato. Cioè, guardate, possiamo scegliere degli episodi a cui giocare. Il giocatore sei tu, oppure una roba dove stai nella lava, non solo gli Enderman, rimuovi Herobrine, quindi confermano che Herobrine c'è nel gioco e lo possiamo rimuovere. Tutti i mondi sono tuoi, a parte, o questo non si sa che cosa sia. E sono disponibili nella versione registrata, quindi questa che è una demo, quella che hanno... Che cos'è sta roba? Seleziona difficoltà, ciao Noobville, ah sei un casual, sei un casualone, poi c'è Extreme, Nightmare... Io voglio... l'avete visto? Oh, se vai sulla Nightmare Mode si colora tutto di rosso, ma andiamo nella Nightmare Mode ragazzi, c'è... Che domande! Oh mio Dio ragazzi, perché hanno nascosto questa cosa finora? Cioè, con questo Itale verrà sconfitto per sempre. Allora, Minecraft Shareware, considera di registrarti per avere accesso a tutti gli episodi. Ok, ma se io mi registrarti... cioè, se io faccio... Mi ha aperto un blocco note... Ok, vabbè, facciamo che... andiamo avanti a giocare al momento. Allora, come... Che sta succedendo? Perché subisco danno a caso? Ma è letteralmente ingiocabile sta roba, ma... Oh mio Dio, guardate la grafica... Sto volando... Ok ragazzi, praticamente questa modalità è così difficile... Che tu subisci danno... Sempre... E credo tu debba... In qualche... Ma che cos'è sta griglia stranissima? Non potevo neanche selezionare l'oggetto... E vabbè, sono morto... Vai, proviamo un'altra modalità... Allora, the player is you... Ehm... Noobville... Vai, iniziamo dalla base... Tra l'altro... Notate, graditissimo... Il... La barra rossa sopra... Che dice... Versione non registrata... Ehi, ma... Mi hai ributtato nel... Mondo di prima... Ma mi prendi per in giro, allora... Continua a giocare... Ok... Va bene ragazzi, ora possiamo a quanto pare giocare davvero... Come vedete qui abbiamo una chest di benvenuto... Con... Degli item facilmente riconoscibili... Ragazzi... La grafica e i suoni sono bestiali... Cioè, è davvero bellissimo... Inserisci disco 39... Ehm... Ok, abbiamo qualche problema... Dove essere il disco 39... Aspettate... Mi sembra che devo mettere questo... Ok... A posto, a posto... Praticamente sì... Bisogna ad un certo punto inserire un... Un disco... Perché c'è un barile che va a fuoco? Cosa rappresenta? Proviamo a... Non so con quale oggetto... Romperlo... Con questo? Ah sì, era proprio un barile... Che va a fuoco... Vabbè, ragazzi... Non è che mi... Mi voglia fare troppe domande... Allora... Intanto qui possiamo convertire il legno... Cioè, pensate che... In questa versione antichissima di Minecraft... Già c'era il legno di betulla... Il barile... Poi li hanno rimossi... E li hanno rimessi ultimamente... Quindi c'è... Questa versione è... È oro colato... È bellissimo... Poi la gui per niente invadente... Devo dire che mi piace davvero tanto... Allora... Andiamo a convertire questi... E andiamo a creare un... Una bella spada direi... Perché no? Guardate, lì ci sono dei... Barili... Che... Nuotano... E vanno a fuoco... Mi sembra tutto a posto... E qui abbiamo delle pecore, ragazzi... Comunque c'è un framerate... Che, devo dire, fa la sua porca figura... Ma io in tutto ciò... Vorrei provare ad esplorare una caverna... Perché secondo me... Le caverne... Cioè... Saranno interessantissime... Anche perché starei un po' qui all'aperto... Devo dirvi la verità... Un po' mi stanno sanguinando gli occhi... Cioè... Non so... Forse è un problema mio... Ma ogni tanto... Sento una gocciolina di sangue che... Che scende... Ah... Cavoli... Inserisci il disco 1... Eh... Aspetta... Dov'è? Ragazzi io ce li ho qua i dischi... Vi assicuro... Oh... Ok... Aspetta... Entra... Ok... Perfetto ragazzi... Come vedete... Ci sono... Giusto delle piccole problematiche... Ma devo dire che è un gioco... Veramente godibile... Bellissimo... Cioè ragazzi... Io sono emozionato... Allora... Troviamo questa caverna o no? Così possiamo andare... Ad esplorare il sottosuolo... Tra l'altro... Mi piace un sacco la texture... Dell'erba in questo caso... Ovviamente... È retro... Però guardate che bello... Che bella grafica... Cioè... È bella... I colori sono molto più vividi rispetto... A... Al Minecraft di oggigiorno... Quindi... Cioè... Io spero che... Tornino a questa versione... Visto che l'hanno resa disponibile... Magari si tornerà indietro... Non so... Sarà una cosa interessante... Ragazzi... Le pecore fanno un suono bellissimo... Oh... Guardate... Guardate la pecora... Se tu la guardi da... Dal lato... La vedi in un modo... No? Se la guardi di fronte... Dietro è così... Di fronte è così... Giustamente... Cioè... Perché appesantire il gioco con inutili modelli 3D... Quando puoi gestire così... Cioè... Qua... Ragazzi... Non può andarvi male... Il gioco... Non può avere una grafica schifosa... O laggarvi... O farvi pochi FPS... Ne ha già pochi di base... Quindi capite bene che... Questa versione... È... È normale per tutti... Cioè... Tutti siamo uguali... In questa versione... Il che è fantastico... Perché se anche avete... Un PC che... Che lagga... Di norma... Uh... Le galline fanno un bellissimo suono... Sentite? Aspetta però... Vieni qui che... In questo... Bidimensionalità... Non riesco a prenderti... Aspetta... Bellissimo... Sembra un Pokémon... Uh... Ed ecco una caverna... Che... Figa... Oh cavoli ragazzi... Questo è ferro? Ma ragazzi... Sembra... Aia... Mi sono fatto... Aspetta... Guarda quando shifto... Il personaggio si shifta anche nell'inconscino in basso... Fantastico... Il ferro sembrava davvero arrugginito... Quindi... Figata assurda... E guardate quanto è inquietante la caverna... Cioè non si vede proprio nulla... Ma è emozionantissimo andare qui dentro... Allora... Cerchiamo un attimo di prendere la pietra... Cosa succede se scaviamo a caso? Sono curioso... No comunque vi stavo dicendo... Cioè qua... Non esiste laggare... Siamo davvero... Tutti allo stesso livello... Ah tra l'altro guardate la pietra viene accatastata... A quanto pare... Ma perché me l'ha divisa? Ah questa è indesite... Ah no niente... Ok ragazzi... Tutto normale... Prima continuiamo a scavare... Vediamo dove... Sbucchiamo... Sbucchiamo... Se sbucchiamo da qualche parte o meno... E... Ok... Ah inserisci il disco 17... Nel drive A e premi enter... Sì ce l'ho... È quello... Cad'è che l'ho messo? No... Queste sono le cicche... Eccolo eccolo eccolo... Aspetta... Aspetta... Ok... Aspetta un attimo che è incastrato... Ok... Ehm... Enter... Sì ragazzi c'è il disco apposta per le caverne giustamente... Non è che puoi avere in un disco unico tutto il gioco... Cioè... Siamo pazzi per caso... Allora continuiamo a scavare... Devo dire che la visibilità... Molto ridotta... Aiuta comunque a sentirti parte del gioco... Perché immaginate no? Di essere in una grotta e che scavate... Non è che c'è la luce... Vedete c'è una leggerissima... Una luce là sopra... Perché abbiamo scavato... E... Oh! C'è della lava! Ragazzi... Siamo sotto terra... Ma c'è della redstone lì... Ma che figata assurda... Allora cerchiamo di... Farci strada verso una caverna... Fatta bene... Secondo me di là c'è qualcosa... Vedere... Perché... Cioè... Io voglio assolutamente vedere come... Dovevano essere le caverne... Cioè... Io comunque le vorrei così le caverne in futuro... Non so che cosa ne pensiate voi... Oh! Guarda qua ce n'è una... E... Secondo me... Comunque... Quando ci sarà l'update delle caverne... Dobbiamo aspettarci qualcosa di molto simile... Perché qua il livello era altissimo... Ragazzi... Guardate... Guarda che effetto... Beh c'è una luce... Stranissima qui... Perché c'è altra lava... Non vedo i mob però... Non vedo i mob però... E comunque... Ci sta un Minecraft senza mob ostiglia eh... È molto... Ah! Porca Eva... I mob! Giusto! Il disco 28 è quello dei mob... Allora aspetta... Aspetta... Disco 28... Dovrebbe essere questo... Ok perfetto... Ce l'abbiamo... Disco 28... Dovrebbe poter sbloccare... I mob nelle caverne... Credo... Intanto ragazzi abbiamo recuperato al 100% la salute... Quindi anche ti aiuta un po'... Il gioco ti agevola... Proviamo a saltare... Facciamo questo parkour pazzo... Guarda... Ah! Ok... E ci sono die diamanti! Ragazzi abbiamo trovato già i diamanti... Allora aspetta... Legno di giungla... C'era già all'epoca... Avete visto... Legno di giungla... Noi andiamo qui... E se avessimo un piccone... Che... Cioè effettivamente... Non è che mi sia portato proprio la roba giusta... Però potrei... Volendo prendere i diamanti... Eh... Sì adesso è un po' lunga farsi il piccone di ferro qua... Però figata... Vediamo se andiamo nella lava... Cavoli la lava fa malissimo eh... Vediamo... Però come vedete recupero più salute di quella che perdo... Cioè la feature è incredibile... Oh! Mi posso mettere in F... 5... Ma è tipo tutto... Al contrario... What? Come funziona sta roba? Aspetta... Eh... Ok... F1... Oh! Perfetto... Ora sì che ci vediamo bene... Ragazzi... Eh... Che dire... Aia... Aia... Eh vabbè però che casino... Aspetta che non si capisce niente qua... Allora... Poi... Poi... Aiuto... Qua... Vai qua un attimo... Spegniti per piacere... Ok... Perfetto... E... Beh... Disco 40... Perché... Aspetta un attimo... Senza di... Un attimo... Per piacere... Ok... Ok... Ragazzi... Cosa vi volevo dire... Questa versione di Minecraft... È fantastica... Ed è un pesce d'aprile... Non l'avevate capito che era il pesce d'aprile... Dai... Cioè ragazzi... Si sa che... Che ogni anno devono fare la pirlata... Io per tutto questo video... Che ho fatto molto alla svelta... Perché in realtà... Ho un altro video oggi da mettere... Non era in programma questo pesce d'aprile... E lo metterò più tardi... Tipo... Alle 20... Credo... Alle 21... Mi son chiesto... Ma... Perché hanno fatto questa roba... È simpatica... Però ci hanno messo dell'impegno per farla... E diamine... Fate gli snapshot... Mojang fa gli snapshot... Non fa i pesci d'aprile... Però ragazzi... Dai... Adesso... A parte gli scherzi... Davvero... Carino... Che... Comunque... Fanno dei pesci d'aprile carini... Ogni anno... Ed è sempre simpatico portarli... So che nessuno ha creduto che fosse reale... Semplicemente sono stato al gioco... Fatemi sapere che cosa ne pensate... E a 5000 like... Facciamo una serie... Su Minecraft 3D... Che mi sembra... Una ficcata incredibile... Detto ciò... Ci vediamo dopo con il... Disco 28... Niente ragazzi... Lascia a terra...